Alle prime notizie sembra che sia arrivata una bomba d'acqua all'interno delle gole che è partita dalla parte alta delle gole, da San Lorenzo, possibilmente dalla parte ancora più alta e ha scatenato l'inverosimile dentro le gole. C'erano probabilmente dei turisti, c'era anche una guida ed è arrivata l'imbonderabile, si può dire questo, perché è una tragedia che colpisce l'intera comunità, colpisce le vittime, i familiari delle vittime, i sopravvissuti, utilizziamo questo termine, ma è una tragedia in mano, è una tragedia che non potevamo presagire in questi termini. Le prime indicazioni danno questa grossa bomba d'acqua, io sono arrivato intorno alle 16 e vedevo da sopra del Ponte del Diavolo una grandissima, tantissima acqua che scendeva e portava tutto giù, quindi sicuramente questo ha determinato la tragedia. Una fase importante sarà quella di seguire soprattutto, è brutto dire, i parenti delle vittime che arriveranno qua e sicuramente dovranno sostenere anche loro una prova come quella che sto subendo io in questo momento, una prova che è indicibile dal punto di vista della serenità che manca completamente. Quando succedono cose come queste tu non hai la forza, poi devi essere freddo e devi ragionare per aiutare tutti, ma sicuramente la nostra comunità non meritava questa tragedia, che è una tragedia come quella del Vaillant, cioè mai e poi mai potevamo pensare che potesse succedere questo. Il paese si è aperto immediatamente, sono già giunti i generi di prima necessità, hanno aperto le porte per ospitare... Il paese sto avendo continue testimonianze da tutti i B&B, tutti i ristoratori, tutte le persone, tutti i cittadini stanno mettendo in espressione le loro case per ospitare tutti. Questa è la bellezza di questo paese, però che in questo momento drammaticamente viene meno, dal momento in cui è qualcosa che non si può neanche raccontare, forse quando saremo un po' più non presi come in questo momento perché vedere le vittime è stata dura e penso sarà per me molto dura per i prossimi mesi perché è qualcosa che non si può accettare.